Se ami gli animali, noi li deluderemo, se vuoi curarli, se vuoi accudirli, Federico te lo mostrerà. Li guarirà, li salverà e ad amargli insegnerà, ci spiegherà le qualità e le loro necessità. Se ami gli animali, noi li deluderemo, come curarli, come capirli, Federico te lo mostrerà. Federico te lo mostrerà. Bentornati a una nuova puntata di Che razza di amico. Oggi parleremo di una razza di cane, parleremo poi di un'altra razza, ma di gatti, e ospiteremo in studio la proprietaria di un cane con un bellissimo maltesino e ci proverrà le sue problematiche. Cercheremo, come al solito, di risolverle. Oggi parleremo di una razza molto importante, una razza molto popolare nelle case degli italiani, che è il bassotto. Ma non è un bassotto normale, ma un bassotto tedesco, a pelo corto, caninchen. Ora spieghiamo anche perché questo cane ha avuto un grande successo nelle case degli italiani. Perché è un cane che è di piccole dimensioni, ma è di un coraggio, potrebbe affrontare anche un leone. Non si rende conto della sua stazza. È un cane molto maleabile, è un cane dolce, è un cane che convive bene con tutta la famiglia, ma c'è un ma, sceglie un unico capobranco in casa, che può essere il compagno di giochi, ma la maggior parte delle volte sceglie l'individuo in casa più forte di carattere. Questo è un cane che ha delle caratteristiche particolari, che si ritrovano su tutte le pubblicazioni, da internet, dai libri e così via. Ma io oggi vi voglio parlare di questo cane per prevenire un problema a livello medico veterinario che purtroppo questo cane è predisposto. Questo cane non dovrà mai salire le scale, perché salendo le scale va a danneggiare la sua schiena. Infatti la predisposizione di questo cane è avere ernie di scali. Per evitare queste problematiche bisogna sempre prevenire, perché arrivare con il problema dal medico veterinario poi sono dolori per il cane e per il proprietario. Grandi sofferenze sia per l'uno che per l'altro. Allora, come evitarle? Ripeto, non far fare le scale e non far fare le salite, specialmente di corsa. Questo è un cane che quando dobbiamo affrontare appunto una scalinata non dobbiamo fare altro, essendo piccolo, che prenderlo in braccio e salire la scala con il ragazzo o la ragazza in braccio. E mi raccomando, i primi segni di zoppia, le prime zoppie del vostro bassotto, devono essere subito denunciate al medico veterinario di fiducia, chiaramente. Il medico veterinario di fiducia farà le proprie indagini, cosa? Farà delle radiografie sulla parte interessata, o del contrasto una maggior parte delle volte, quindi parliamo di mielografia, per arrivare all'attacco o all'erisonanza magnetica. Bisogna vedere bene dove c'è questa compressione del midollo, per agire poi chirurgicamente. Quindi, mi raccomando, è un cane che, sì, è coraggioso, è forte, ha un carattere molto forte, ma poi fisicamente tutta questa forza poi, diciamo, che non ce l'ha. Purtroppo il tempo è tiranno, Pepita, di tre anni, femmina, una meraviglia di questa razza, ci dobbiamo lasciare per andare ad affrontare un'altra razza, ma di specie diversa, che è un gatto bellissimo, che è il gatto norvergese delle foreste. Guardate che meraviglia! Questo è uno dei gatti più belli del mondo, ma anche più, in qualche modo, mansueti. Sono gatti che amano vivere in casa, hanno un bellissimo carattere, convivono benissimo anche in famiglie dove ci sono dei bambini. Insomma, in qualche modo amano molto il movimento e la compagnia. Non sono gatti come tutto il resto del mondo felino, che ama magari star anche da soli a volte. Questo è un gatto che ama proprio stare in compagnia e giocare. Si sceglie anche un compagno di giochi. La maggior parte delle volte, io consiglio sempre che chi prende una razza del genere, appunto stiamo parlando del gatto norvegese delle foreste, di prendere uno o più gatti. Non deve essere per forza della stessa razza, ma l'importante è che appunto si facciano in qualche modo compagnia. La caratteristica di questa razza, non solo il carattere e la felinità, è questa bellissima coda, che richiama in qualche modo la coda della lince. Esteticamente è un gatto meraviglioso, bellissimo, morbido. Al tatto c'è questo pelo e sottopelo morbidissimo. Questo è un gatto che va spazzolato almeno due volte al giorno. Bisogna abituarli sin da piccoli. Ed è un gatto che poi, in qualche modo, molto maleabile si fa trattare, ma bisogna, mi raccomando, abituarli sin da piccolo. Esteticamente è un bellissimo gatto, ha un codone molto corposo, ha i ciuffetti qui sulle orecchie che gli danno proprio la caratteristica e questa criniera. Questa è una gattina, una femminuccia di quattro mesi e mezzo. È un gatto di grandi dimensioni. Il maschio arriva intorno agli 8-9 kg e le femminucce raggiungono i 5-6 kg di peso. Questa è una razza che non ha predisposizioni patologiche particolari, non ha bisogno di cure specifiche, è una razza che consiglio a tutti. Grazie di tutte le mail che ci avete mandato. Se volete sapere qualcosa di più, qualche curiosità in più su alcune razze di cane e di gatto, Bene, un'altra mail che ci è arrivata giorni fa ci chiedeva una visita di controllo a Nina, una bellissima maltesina. Oggi l'abbiamo invitata ed è qui con noi Nina, una bellissima maltesina con la sua proprietaria di nome Maria Rosaria. Bene, bene. Allora, poggi pure Ninetta qui, bellissima, profumata. Penso che sia stata appena toilettata, per l'occasione. Esatto. Allora, diciamo tu subito che il maltese è un cane amabile, molto presente nelle case degli italiani. È un cane, tra virgolette, da salotto. Parleremo di questa razza nelle prossime puntate. Ma oggi non parliamo di razze, ma parliamo di salute. Lei ci ha scritto che voleva che io facessi una visita di controllo. Assolutamente. Ma perché questa visita di controllo? Sì, appunto, Nina deve fare la sua solita vaccinazione annuale. Vedendo appunto la trasmissione, così prendendomi cura estremamente il mio cane, pensavo di approfittare per far sì che prima della vaccinazione potesse fare una bella visita magari di controllo. Lei ha detto una cosa interessantissima che interessa a tutti i telespettatori. Dovete sapere che il giorno in cui il veterinario vaccina il cane non è un giorno solo della vaccinazione, ma il giorno in cui ci si incontra e in qualche modo i proprietari dei cani, come lei, un attento proprietario di cane, racconta tutto ciò, tutto quello che è successo durante l'anno. Perché le vaccinazioni sono annuali con un richiamo semestrale. Poi diciamo anche che tipo di vaccinazione si fa. E l'incontro col medico veterinario almeno uno o due volte l'anno è importante. Perché in qualche modo il motivo della vaccinazione è una scusa. Perché noi dobbiamo, siamo obbligati a visitare e controllare il cane. Dobbiamo far sì che il cane, prima di fare la vaccinazione, sia sano. Il giorno della vaccinazione è un giorno di un controllo di una visita del cane. Infatti lei ha fatto bene a portarmi il cane perché noi oggi, prima di somministrare il vaccino, lo visitiamo. È chiaro che il cane, se ha un problema di salute, al cane non si può fare alcuna vaccinazione. Risolviamo il problema salutare. La visita si inizia chiaramente dalla testa a finire caudalmente. Allora iniziamo a controllare il cane, ma prima ancora di controllare il cane e di visitare il cane, il medico veterinario, lo dico a tutti voi telespettatori perché è importante fare delle domande, il proprietario deve in qualche modo raccontare tutto quello che è successo nel corso dell'anno. E specialmente negli ultimi giorni, se il cane ha avuto un problema. Quindi il medico veterinario fa delle domande al proprietario, come le farò io adesso, in modo che sia chiaro un quadro di tipo salutare. Allora, negli ultimi giorni il cane ha avuto problemi respiratori, come per esempio tosse, starnuti? No, no, assolutamente no. Ha avuto problemi gastroenterici, come per esempio può essere un vomito oppure una diarrea? No, no, assolutamente no. Ecco. Ha sentito un po' di rumorini nello stomaco di gorgogli? No, no. Allora, ci siamo informati in generale che il cane più o meno non ha avuto né problemi respiratori né appunto gastroenterici. Chiediamo in più se le feci sono compatte nel momento della defecazione. Assolutamente sì. Se ha un'urinazione normale, se ha mai notato delle gocce di sangue, del colore rosa delle urine. No, no. Bene, a questo punto, dopo aver fatto tante domande, dopo essersi informati che il cane in generale, appunto, negli ultimi giorni, prima di venire in visita ambulatoriale, sta bene. Iniziamo appunto la visita. Come dicevo prima, iniziamo dalla testa. Oh, innanzitutto iniziamo a scrutare le narici. Ecco, le narici sentiamo se l'aria esce senza alcun ostacolo. Ma come si fa? Si ottura una delle due narici e poi ci si avvicina per sentire se l'altra narice è libera. Ed è libera. Facciamo la stessa cosa con la collaterale e sentiamo se è libera anche l'altra. Poi iniziamo ad esplorare la cavità orale. Allora, alzando leggermente senza traumatizzare il cane, andiamo a vedere il colore della mucosa, che deve essere roseo e deve essere lucido, come in questo caso. Poi andiamo a vedere se ci sono problemi a livello dentale, come per esempio può essere una cattiva igiene orale. Così proponiamo eventualmente una detartrage alla proprietaria, appunto, da far affrontare nei giorni sicuramente dopo la vaccinazione. E a scendere controlliamo anche gli occhi che devono essere ben aperto, lucido e senza tante lacrimazioni. Dottore, approfitto un attimo per chiederle una cosa. Sì. Allora, il pelo intorno al viso ha sempre questo colore così roseo e è difficile da mandar via. Esatto. Quale può essere il rimedio per cercare di ricomporre il colore del pelo all'altro pelo? Perché è sempre così... Ecco, se lei ci fa caso, ha questo colore vicino alle mucose, là dove c'è la lacrimazione. Questo colore roseo è dato proprio dall'acidità della lacrima. Qui c'è, innanzitutto, la devo rimproverare, una cattiva igiene degli occhi. Bisogna pulire questi occhietti tutte le mattine. Vede, bisogna togliere questo cispo all'angolo, nella parte interna dell'occhio. E questo colore roseo, che la maggior parte delle volte è difficile evitare, perché comunque c'è sempre una lacrimazione di questo cane, perché è una predisposizione della sua razza. È sempre meglio pulirli. Ma come? Basta un po' di gotone umido con l'acqua, con la stessa acqua, oppure acido borico. Oppure ci sono delle sostanze, dei prodotti che vendono nei pet shop, che servono proprio a tenere pulito appunto questa parte del viso del cane. Poi si va ad esplorare appunto le orecchie, quindi il padiglione auricolare esterno. Si va a vedere che non si è infiammato, che non ci siano dei peli che ostruiscano appunto il condotto uditivo esterno, che non ci sono delle croste, delle infiammazioni. Poi appunto controlliamo anche il condotto uditivo esterno con l'otoscopio, per vedere che non ci sia un tappo magari di cerume o che non ci sia un'infezione appunto lungo il canale e andare a controllare che il velo timpanico sia integro. Poi andiamo scendendo a sentire se il pelo è morbido, lucido, se la cute è ben idratata. Ecco, per capire se un cane sta bene e se è ben idratato, bisogna prendere una plica di cute, così pizzicarla e aspettare e vedere in quanto tempo ritorna giù. In questo caso è tornata giù in un secondo, quindi vuol dire che il cane è ben idratato. Se ci avesse messo più tempo, il cane avrebbe avuto sicuramente un problema di disidratazione. Scendendo, andiamo a palpare e a sentire appunto l'addome se è morbido. Deve essere sempre morbido e il cane non deve fare ostruzione, non deve indurire i muscoli addominali, ma ce lo deve far sentire comodamente. Così vuol dire che il cane appunto non ha dolore in questa zona. E adesso andiamo ad esplorare l'apparato respiratorio. Come? Lo ascoltiamo perché dall'esterno l'apparato respiratorio, noi dobbiamo sentire la cassa toracica vuota, non dobbiamo sentire ostruzioni o rumori che possano in qualche modo ostruire il passaggio dell'aria, sia che venga ispirata, sia che venga espirata. Quindi lo vado ad ascoltare da tutti e due i lati, adesso faccio solo vedere come, ma la cosa più importante a livello toracico è ascoltare il cuore, che sia tonico e regolare. Il medico veterinario, se c'è una insufficienza cardiaca, lo percepisse subito nell'auscultazione. Dopodiché, se dovesse esserci questa insufficienza, si iniziano degli esami collaterali, come per esempio un'ecocardiografia, per capire laddove è il problema cardiaco e dare una giusta terapia. Una volta esplorati tutti questi organi, possiamo, e abbiamo constatato che il cane sta bene, una volta esplorato tutto il corpo dell'animale, visitato l'animale e visto che all'esame obiettivo generale il cane sta bene, possiamo procedere con la vaccinazione. Io chiaramente le chiederò qual è stato l'ultima vaccinazione che è stata fatta al suo cane. Marzo 2012. Bene, è il giusto tempo per fare un richiamo vaccinale. In questo vaccino ci sono più componenti. Praticamente noi vacciniamo il cane contro alcune malattie infettive che possono essere loro anche letali, come per esempio il cimurro, l'epatite virale, la parvovirosi, la famosa gastroenterite virale, ed in ultimo la leptospirosi. È un vocino polivalente che noi facciamo tutti insieme, un'unica somministrazione, così non stressiamo più di tanto il cane. La durata, dottore, del vaccino? Questa è una vaccinazione e questa vaccinazione ha una durata e copre il cane e protegge il cane per 12 mesi circa. Quindi il richiamo va fatto tra un anno. Però tra sei mesi, solo tra sei mesi, richiamiamo solo la leptospira per rinforzarla. Vacciniamo il cane, diciamo diamo un rafforzamento degli anticorpi della leptospira ogni sei mesi. Adesso vado a preparare la vaccinazione. La famosa vaccinazione di cui i cani sono terrorizzati. Infatti i cani quando entrano in ambulatorio, visto che frenano, cercano di non entrare, cioè è difficile farli entrare perché loro sentono l'odore dell'alcol che c'è nell'ambulatorio e associano quell'odore all'iniezione. E quindi chiaramente è un'associazione negativa, è una brutta associazione, e loro si ricordano di questa picca picca che ha creato chiaramente un po' un fastidio e quindi sono un po' reticenti. Ma la nostra amica è coraggiosissima. È buonissima. Vediamo. È buona buona buona. Facciamo un'eccezione. Ecco, adesso somministriamo il vaccino, prendiamo una plica di cute come abbiamo visto nella puntata precedente, dove noi andremo ad inserire l'ago per somministrare il vaccino. Ecco, io sono entrato. Adesso, vedete, somministro il vaccino. La maltesina Nina, devo dire, è coraggiosissima. È buonissima. Io ho fatto... Ecco, adesso, qual è il fastidio del cane? Non è tanto l'iniezione o la puntura che crea dolore, ma è il freddo che sente sul dorso nel momento dell'inoculazione. Quindi diciamo che più che dolore è fastidio. Questo avviene tutte le volte che somministriamo un vaccino ad un cane. Non vi dovete spaventare, ma è normale che avvenga. Ma dura 4-5 secondi, già è passato, il cane non ha più alcun fastidio. Più che dolore direi fastidio, perché sente questo freddo sul dorso. Una volta vaccinato il cane, invito, in questo caso, la signora Maria Rosaria a tornare tra sei mesi per, appunto, somministrare un'unica e sola vaccinazione che controlla leptospirosi. Se lei adesso mi dà il libretto, normalmente questo libretto che deve seguire il cane, perché qui c'è tutto il curriculum sanitario del cane, io la vaccinazione che oggi ho somministrato, la applicherò un tagliandino, un adesivo, con il timbro e la mia firma, e certifico che ho somministrato questo vaccino e scriverò sul libretto la data della prossima vaccinazione. Perfetto. Vi consegno il libretto. Sendo prima Nina. Ninetta è stata bellissima, complimenti. La ringrazio tantissimo. Se ha bisogno di me, io sono sempre qui in TV. Perfetto. Approfitterò. Grazie mille. Anche questa puntata di Chirazza ed Amico è terminata. Io vi do la nostra mail, che è mi raccomando continuate a scriverci specialmente se volete venire in diretta a proporci un problema con il vostro cane o con il vostro gatto. Vi aspetto numerosi. Ciao e alla prossima puntata. Ciao e alla prossima puntata. Se ami gli animali, non ti deluderemo, come curarli, come capirli, Federico te lo mostrerà. Federico te lo mostrerà.